Occhio! E poi se proprio proprio non si dovesse ferma... Allora possiamo favore che un gruppo va, nel caso va l'ammiraglia eh? In caso vai mappia... allora... mappia la macchina! Quanto c'hai ogni tanto dimmelo? Quanto c'hai? Quanto c'ho 113... Va bene! 113 no! Ma ogni tanto va! Eh infatti... Stiamo calmi e... Non lo sfruttiamo! Non lo sfruttiamo! Non lo sfruttiamo! Non lo sfruttiamo! Ma domenica non mi superate! Non mi superate! E chi ti dierà a me? Vai piano! Non lo sfruttiamo! Mi voglio fermare perché la voglio anche registrare! Ah ok ok! Quoteva, non? No lo sfruttiamo! Deksi specifically... Vittà? Sì... Bellissimo! Deksi c'erete adesso per fermare qua o alla fine ma l'allocale l'allocale si stai la bulec si aia si stai la bulec si aia che cosa è stato secondo te le salitelle le salitelle si 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 è andato non la macchina però magari ma non fa come ma non fa come domenica siccome l'ho trovato io mi aspetta il 10% certo assolutamente chiudi tutto se mi perdevo questo io addio oggi chi me lo dava? un con della carta e un con dei liquidi se ci vuole acqua sulla scuola vabbè c'è il telefono il telefono te lo dà? ma chi l'ha preso? ma che c'è il telefono? si si la chiave ce l'ho io un po' il zucchero la chiave della miraglia ce l'hai tu? qua ci hanno una doppia chiave però se volete allora forse la miraglia io io domenico? no no io ci rimango no perché se poi rimaniamo in troppi troppi peggio stai rilassato che ti hanno detto? qualche cosa tipo acqua e zucchero? no caffè no l'avevi passata sola ma lui lo lo sa meglio lui secondo me se non si sente bene no no è un'altra cosa questa deve stare solo deve recuperare un attimo però se sta a picea si no lui dice che si sta in piedi vedi a dove sta la picea? fa un po' come ha fatto un tuffo? eh si si questo poi lo piglia eh? no è lui te l'ha dato eh? te l'ha dato lui l'ha dato alla fascia lo credo come i campioni perché deve fare la sua procedura di dalax vabbè non mi sto a mandare cosa ancora io capito 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 prima su stesso di me no lui dice che così scusa ma che cosa è? 180 va beh assetto come devi capire di più l'acqua perché stai assodato ti stai mace tutto e quante no 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 è meglio non metterci il nego vabbè siete di qua, aspetta io tolgo la bici, no grazie lo provo, resta video